Abbiamo testato oltre 20 mouse per videogiocatori negli ultimi anni e in questo video vi mostreremo quelli che secondo noi offrono il miglior rapporto qualità-prezzo. E se siete interessati a determinati modelli, abbiamo inserito i relativi link in fondo al video. Top 4. Asus ROG Harp Ace Aim Lab Edition Questo mouse offre diverse possibilità di utilizzo. È possibile utilizzarlo in modalità cablata, con il robusto cavo USB, oppure in modalità wireless grazie al Bluetooth, al Wi-Fi a 2,4 GHz o al dongle USB. Per queste ultime opzioni, la tecnologia Speednova riduce al minimo la latenza e la durata della batteria varia da 80 ore, con illuminazione RGB a 90 ore senza. Dopo l'uso, è possibile riporre il dongle USB sotto il mouse. Il sensore ottico ha una risoluzione molto elevata di 36.000 punti per pollice e può essere regolato in base ai movimenti. Le nostre impressioni sono che il mouse si muove rapidamente, il che lo rende ideale per i giochi FPS con molti movimenti. Durante i nostri test, ha ottenuto ottimi risultati sia con bersagli fissi che in movimento. Purtroppo, con soli 5 pulsanti programmabili, non è adatto ai giocatori di MMORPG. Anche la rotella di scorrimento è un po' elementare. Una nota positiva è che questo è il mouse per giocatori più leggero tra tutti quelli che abbiamo testato. Pesa solo 54 grammi. La disposizione dei pulsanti è progettata per una presa del palmo della mano destra, ma si adatta a tutte le morfologie di mano. Anche se il suo design è semplice, incorpora un'illuminazione RGB molto discreta, solo sulla rotellina. Il software Armory Crate consente di personalizzare i pulsanti e l'applicazione Aim Lab offre una serie di esercizi per esercitarsi e padroneggiare le impostazioni. Infine, l'unica piccola lamentela su questo mouse è che il suo rivestimento tende a scivolare sulle mani sudate. Fortunatamente, il marchio fornisce una striscia adesiva antiscivolo che può essere aggiunta per migliorare la presa. In breve, grazie alla tripla connettività e al sensore preciso e reattivo, offre prestazioni eccellenti per i giocatori di FPS. Inoltre, è uno dei più leggeri sul mercato e si sente benissimo in mano. Top 3 Razer Viper V3 Pro Con la sua tecnologia wireless hyperspeed funziona senza latenza utilizzando un dongle USB-C. La batteria ha un'autonomia di 95 ore ed è possibile utilizzarla anche in modalità cablata grazie alla porta USB-C e al robusto cavo. Tra gli aspetti negativi, l'assenza di connessione Bluetooth, l'assenza di uno scomparto per riporre il dongle sotto il mouse e il cavo del dongle piuttosto ingombrante. Ultraleggero, con un peso di soli 55 grammi, non stanca il polso dopo lunghe sessioni di gioco e si muove rapidamente con le sue ampie scivolate, facilitando il tracciamento degli obiettivi negli FPS. Tuttavia, non ha molti pulsanti per i giochi MMORPG. Ce ne sono solo sei e anche la rotella di scorrimento è basilare per questa fascia di prezzo. Il suo sensore ottico da 35.000 punti per pollice e la velocità di interrogazione di 8.000 Hz lo rendono il modello più avanzato in termini di prestazioni, tra tutti quelli che abbiamo testato. Ciò è stato confermato durante i nostri test, in quanto il mouse è stato tra quelli con cui abbiamo ottenuto i migliori punteggi di precisione. Tuttavia, l'impostazione della risoluzione sul lato inferiore del mouse è mal posizionata. Il software Razer Synapse è completo e consente la totale personalizzazione del mouse. Frequenza di polling, livelli di risoluzione, azioni dei pulsanti, calibrazione del sensore, adattatore di sensibilità, autosleep, ecc. Grazie alla sua forma simmetrica accuratamente progettata, il Viper V3 Pro è adatto agli utenti destrorsi con i pulsanti posizionati a sinistra. È inoltre adatto a tutte le forme di mano. I comandi sono tutti a portata di mano e il mouse è comodo da impugnare grazie al suo rivestimento morbido. Grazie alle strisce adesive fornite dal marchio, non scivola tra le mani, il che è un bene per chi ha spesso le mani sudate. Per quanto riguarda il design, è chiaramente sobrio e privo di illuminazione RGB. Il colore bianco ci piace molto, ma capiamo che alcuni giocatori potrebbero trovare il design troppo minimalista. In breve, rivolto a giocatori esigenti con un budget elevato, questo mouse si concentra sulle prestazioni piuttosto che sulla personalizzazione, con un sensore ottico avanzato, un'elevata velocità di interrogazione e una leggerezza impressionante. Top 2 Steel Series Rival 3 Ben progettato, questo mouse con cavo si collega a una porta USB e quindi non genera latenza durante l'uso. Tuttavia, il suo cavo potrebbe essere più robusto. Il suo sensore ottico ha una risoluzione di soli 8500 punti per pollice, ma scivola comodamente ed è comunque sufficiente per i giocatori amatoriali. D'altra parte, durante i nostri test non sempre abbiamo ottenuto la migliore precisione o velocità rispetto ai modelli di fascia più alta, soprattutto contro bersagli in movimento. Abbiamo anche criticato la distanza di stallo superiore alla media e la mancanza di controlli lo rende inadatto ai MMORPG. Progettato per utenti destrorsi, è molto compatto e più adatto a mani piccole. Tuttavia, manca un po' di rotondità nel palmo, il che lo rende più interessante come impugnatura con le dita o con gli artigli che come impugnatura con il palmo. I sei pulsanti sono ben posizionati in modo da essere sempre a portata di mano. La superficie morbida dell'impugnatura offre una buona presa e il mouse pesa 77 grammi, quindi non tende ad affaticare il polso. Il design è piuttosto semplice, ma è dotato di illuminazione RGB a tre zone. Infine, il software SteelSeries Engine è intuitivo e interessante. Permette di accedere alle impostazioni RGB, alla mappatura dei pulsanti, alla sensibilità all'accelerazione, allo snapping degli angoli e alla frequenza di polling. È anche possibile creare profili personalizzati che possono essere collegati a programmi specifici, con attivazione automatica all'apertura del relativo software. In conclusione, si tratta di un modello di qualità nonostante il prezzo molto basso, con un design semplice che si adatta meglio alle mani più piccole. TOP 1 RAZER BASILISC FUN 3 Questo mouse cablato è dotato di un cavo robusto e privo di latenza. Il suo sensore ottico ha una risoluzione di 26.000 punti per pollice, un valore decente per il suo prezzo. Inoltre, è possibile regolare il livello di risoluzione. Sebbene non sia il più veloce per i giochi MOBA, è comunque abbastanza preciso per gli FPS. È adatto anche per i MMORPG grazie agli 11 pulsanti programmabili e può essere utilizzato anche per il lavoro d'ufficio. Durante i nostri test abbiamo apprezzato molto il volante, che può essere disinserito e inclinato a destra e a sinistra. Può essere manipolata in modalità free scrolling o tactile notch. È presente anche un pulsante per il cecchino, ma è un po' corto e poco accessibile per le mani piccole. A parte questo, tutti i controlli vanno bene, a nostro avviso, e i click sono piacevoli. Il software Razer Synapse è completo e offre numerose possibilità. In particolare, è possibile mappare i pulsanti, personalizzare l'illuminazione e creare fino a 5 profili. In termini di maneggevolezza, è uno dei mouse più comodi che abbiamo testato. L'appoggio per il pollice è pratico e offre un'ottima presa per chi ha le mani sudate. Sebbene sia stato progettato più per una presa con il palmo della mano, può essere utilizzato anche come presa ad artiglio o con le dita, e la sua ergonomia si adatta a tutte le dimensioni e morfologie delle mani. Tuttavia, è adatto solo agli utenti destrorsi e il suo peso elevato di 101 grammi può portare all'affaticamento del polso dopo diverse ore di utilizzo. Infine, vorremmo sottolineare la buona qualità costruttiva e il design accurato, con illuminazione RGB a 11 zone. In conclusione, questo è uno dei mouse per giocatori più versatili sul mercato. La sua eccellente ergonomia lo rende comodo da tenere in mano e ne apprezziamo i numerosi pulsanti programmabili e l'illuminazione accattivante. Con questo si conclude la nostra selezione dei migliori mouse per giocatori. Se siete interessati a determinati modelli, troverete i link ai loro prezzi migliori proprio sotto questo video. Speriamo che i nostri test vi siano stati utili e ci vediamo la prossima volta su Selectos.